Ciao 4A da 88 Avanti Ora Fabio ti confermo che ci sono due incastrati Mi ha chiamato anche i carabinieri adesso Perciò ti invio anche il polisoccorso Sì, dove? Eh, è arrivato Adesso che bisogna rimasciare a piedi Ale, mi stanno in loro? Stanno in loro? Stanno in loro? Stanno in loro? Ah, ho capo ricevuto Poi quando arrivate a piano terra Guardatevi con un servicolato a squadra Così lavorate meglio Sieme